Il nuovo Renault Captur è un SUV con tanto spazio nel bagagliaio. Tutto a inizio dall'apertura, più grande, più pratico, adatto ad accogliere oggetti più alti e più larghi. Il suo volume raggiunge i 536 litri, cioè 81 litri in più rispetto alla vecchia generazione. Il 20% di spazio supplementare si rivelerà indispensabile quando dovrete ridecorare il vostro terrazzo, partire per un fine settimana o andare in vacanza per qualche giorno o per vacanze molto lunghe. Il bagagliaio è modulabile grazie ai sedili posteriori scorreboli. E in caso di carichi eccezionali, i sedili si ribaltano facilmente grazie a due leve poste sul lato superiore, liberando una lunghezza di carico di 1,57 metri. Spazio sufficiente giusto per caricare in una sola volta quella scatola con il vostro nuovo armadio. Grazie per aver seguito questo video. Speriamo che questa presentazione abbia risposto a tutte le vostre domande su un nuovo Renault Captur. Se avete apprezzato il video, cliccate su Mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Per maggiori informazioni potete consultare anche il nostro sito internet cliccando sul link o contattare il concessionario più vicino a voi per provare il nuovo Renault Captur. Grazie ancora e a presto! Grazie per aver guardato il video! Grazie a tutti.